Il guepec è questa merda l'anticipata, l'anticipata già ai tempi di squalo, l'esercizio di stile del gue è sempre stato diciamo il più fresco d'Italia, da sempre, da quando era lui la nuova scuola, da quando era lui il giovane, e non è che questi giovani di una volta hanno avuto dei vecchi a proxarli, per questo motivo guepecchegno l'ha sempre fatto. Il gue ha sempre capito che ci sono sempre dei ragazzini in fotta, sto usando sempre la parola sempre, 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 forever and ever, il gue sa bene che ci sono dei ragazzini in fotta che hanno il loro momento, e lui non è stato uno di quelli che li ha snobbati tutti, tutt'altro, lui è uno di quelli che alcuni li ha snobbati perché se lo meritavano, e casualmente sono finiti, ma quelli invece che lui ha sempre stimato, ecco nuovamente la parola sempre, ce l'ho sempre addosso. Perché? Perché? Ok, ripartiamo. Il gue sa bene come deve lavorare, e sa investire sui giovani, perché sa che investire sul giovane in fotta non è una cosa solo per lui, è una cosa che ridà pure su se stesso, perché fare un video, un videoclip ufficiale, estratto da un disco, uscito, fine estate, e farlo oggi a ottobre, andare prima in tendenze, mettendo due giovani featuring, due ragazzi coi controcazzi, da un punto di vista stilistico senza dubbio, e metterli lì è una cosa che fa gola a lui, fa gola a loro perché comunque stai facendo il featuring con gue pequeño, anche se nessuno di questi tre ha bisogno di spingersi, si spingono da soli, gue perché il gue è la leggenda, Jolier perché sta in fotta ed è l'omino del momento da un punto di vista anche più pop, oltre che rap, perché comunque lui ha delle linee melodiche molto belle, e a livello di pubblico non è che ha una fanbase puramente trap, rap, hip hop, lui piace un po' a tutti, e poi c'è Paki che è uno dei ragazzini più in fotta di tutti, cioè questo è uno dei pochi ragazzi che hanno un'età molto bassa ma che si possono definire real, e comunque vanno avanti per la loro strada a colpi di flow, a colpi di macete, porca puttana. E lui è indomabile Paki, qualunque cosa dica, qualunque cosa faccia, e questo pezzo, questo video mashup diciamo di due brani è perfetto, è un prodotto perfetto da lanciare su YouTube per appunto rilanciare tutti e tre un attimo per i loro progetti, e un attimo ridare l'attenzione, fomentare, metterseli in casse, ascoltarli perché comunque è un esercizio di stile che non ha nulla da comunicare in sé per sé, se non il fatto ce l'ho più lungo io degli altri. Ecco, però questo gioco generazionale che Guepec Canyon non ha mai snobbato, bensì ha sempre valorizzato, è uno dei motivi per cui Guepec non è mai finito, ed è sempre stato rispettato da tutti, perché lui la nuova scena, quella che spacca, non l'ha mai snobbata, se l'è portata con sé, e non l'ha fatto perché gli conveniva, ma l'ha fatta fruttare, e questo è un modus operandi che utilizza la camorra, ad esempio, che prende i giovani in fotta e li istruisce, li prepara, e questo c'è da dirlo, c'è da dirlo. Se lo Stato lavorasse così, prendendo i giovani, valorizzandoli, dandogli uno spazio, dandogli il primo in tendenza a ragazzi di talento che già stanno andando forti e cazzivari, sarebbe una grande rivoluzione. Ecco, poi magari ci sono soggetti come Mischilla che invece magari alcuni li hanno proprio lanciati, in certi momenti, e che poi magari se ne sono pentiti, Mischilla magari si è pentito di aver lanciato determinati soggetti. Ecco, quel pequeño invece fondamentalmente non lancia nessuno, e se gli paghi il featuring ti fa l'astrofa a cazzo e non ti lancia, però sa immettersi, sa essere sempre giovane, sempre fresco, anche perché sa stare al passo dei tempi e sa confrontarsi con i ragazzini. Questa è la verità. E ci vogliono le palle, ci vuole coraggio, e nessuno si permette di dire dare del vecchio a guepeghegno, perché comunque è fresco. Poi è chiaro, sapete bene che io preferisco un determinato stile di rap, determinate esigenze, però se mi devo fermare, devo contestualizzare l'esercizio di stile, e allora io dico che sto cazzo di gue non molla niente, non molla un colpo. Questo disco ha quelle tracce un po' più sentite, un po' più emotive, come ti ricordi, molto bella, molto forte, ma c'ha quelle hit che magari hanno anche fatto la nausea, come gli occhi ciccon non mentono mai, e poi c'ha queste tracce da battaglia, e lui ha fatto bene a radunare questi due artisti. Credo che sia una genialata aver fatto questo video con entrambi, veramente, è stato furbo, intelligente, è una bella mossa, che valorizza tutti, ecco. Singolarmente cosa posso dire? Beh, il gue perché da un certo punto di vista puoi dire comunque a 40 anni, ancora fa queste tematiche, ancora fa così, quindi se devo criticare, ci sono un sacco di cose da criticare, anche a livello di stile di rime, non è che dici abbia usato rime così nuove, come il fatto se tu esco dall'hotel, finito il party perde due stelle, l'ha detto Lazza con Remmida, quindi c'è nel senso, nulla di nuovo, però ben detto, e anche con quei due featuring, cioè Jolière lo fa con stile, dice il suo, non hanno detto nulla di nuovo, però ciò che va valorizzato in questo pezzo è l'actitude, come sempre, l'esercizio di stile che bastona, la determinazione, e la voglia di spaccare tutto, e questo te lo possono dare solo i giovani, quindi bene così, io do una recensione positiva, a questo mix di tracce, e vediamo in futuro adesso cosa accadrà, aspettiamo nuovi pezzi di Paki, perché comunque Paki quando si racconta, lo fa in maniera ignorante, lo fa in maniera street, ma lo fa veramente bene, e Jolière è molto musicale, quindi sicuramente starà programmando qualche hit, non sono tre artisti questi che io ascolto, preferisco nella mia libreria musicale privata, ma sono sicuramente tre artisti che ognuno per un motivo diverso, stimo particolarmente, vabbè ovviamente Gue è un maestro, ci sono cresciuto, quindi è un'altra cosa, però questi due ragazzi comunque possono piacermi o meno, però la stima c'è, non potrebbe non esserci.